Noi non mettiamo in dubbio le date del 2035 o del 2050, noi chiediamo che ci sia una riflessione sulla base dei dati concreti che sono sotto gli occhi di tutti e che hanno portato le associazioni di imprese europee e i lavoratori europei a chiedere un cambio di passo alla Commissione. Noi tuteliamo l'impresa e il lavoro italiano ed europeo e credo che sia questo uno dei punti fondamentali di un'Europa che voglia essere solidale e competitiva a livello globale. Per questo chiediamo che siano modificate le tappe e le modalità per giungere a quegli appuntamenti affinché siano sostenibili. Per esempio non vediamo perché debba essere considerata soltanto l'elettricità. L'elettricità non è una religione, è una tecnologia come altre. Se altre tecnologie, per esempio pensiamo ai biocombustibili, possono permetterci di raggiungere lo stesso obiettivo, perché non dobbiamo utilizzarle? E nel contempo, aggiungo, dobbiamo porci, ed era argomento di oggi, ed è argomento del prossimo report della Commissione, la questione di rimente delle materie prime, critiche, e che oggi non sono a nostra disponibilità. E noi non possiamo passare consapevole di quello che abbiamo dovuto attraversare in questi mesi. Io mi riferisco alle conseguenze sul sistema energetico europeo della guerra della Russia in Ucraina. Noi non possiamo passare dalla subordinazione all'energia fossile della Russia, che stiamo pagando a caro prezzo, e lo stanno pagando soprattutto gli ucraini che combattono quella guerra anche a nome nostro, non possiamo passare dalla subordinazione al carbone fossile nella Russia a una subordinazione ancora più grave alle materie critiche prime che sono a pannaggio della Cina e alla tecnologia green che oggi in gran parte si realizza in Asia. Passeremo dalla padella alla braccia e non ce lo possiamo permettere, non possiamo lasciare questa eredità ai nostri figli.